quanta roba che dobbiamo fare caro senpa caro senpa caro loco caro sai che io non mi ricordo se giocavo con la tastiera o se giocavo col pad è un bel problema sono problemi in effetti caro senpa abbiamo un sacco di incarichi secondari da fare ma va e dire di fare una notte da leonesse come si ruba la macchina come si ruba la macchina non mi ricordo tasto e tasto e che male che ho fatto che inizia missione aia 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 ma dove sei se in paura è impegnato cosa stai facendo non ne ho idea ti stavo raggiungendo io mi sai che sono in macchina stai combattendo con qualcuno no sono in macchina con un ostaggio che adesso è messo che si è impegnato perché c'è l'ostaggio butta lo giusto ostaggio bene è fuggito ed è morto ottimo c'è la macchina tra leggeramente a fuoco sai così devo recuperare un po la mano con questo bel gioco questa preparando l'assette per nel parco l'ultima cosa che possiamo uccidere cioè lo uccidiamo aspetta non lo so si bisogna ucciderlo forse stiamo andiamo se uccidere quel coglione si ha senso questa merda aliena ci darà una marcia in più che amiche tettute si dov'è che le troviamo qualche angolo io non ho capito cosa bisogna fare eccole qua c'è un po' c'è sempre in mutande ma non ti vergogno con quel cappello con gli occhiali ridicoli sono bellissimo allora saliamo no sali su che sono saltano su oro tasto e se non e lo so ma non mi fa entrare mi fa entrare mi fa entrare in macchina eccole quindi tu guido io aspetta che aspetta salta su anche l'altra se due stroghiotte qua che ballano davanti a noi ah c'era un poliziato di davanti dai allora guarda che escono anche loro sparare che carino ahia uccido le guardie uccido le guardie ah no non erano guardie quelle lì così un po' di fuoco tutto qua col tasto q eh col tasto q c'erano le... ti ricordi? è super poteri no? ok prendi la droga eh dov'è la droga? recuperata e proviamo la sto trovando no davvero si ma dai non sembra la roba giusta dai che musica da film porno ponch 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 però che sono finite quelle due vacche? sono di là una salta su e quell'altra? l'altra dov'è l'altra? e che cazzo vuoi? non vedo l'altra scusa? no ma ha buttato giù chi è lo stronzo che ha buttato giù dalla macchina? stronzo eccola qua è arrivata eccola lì che è arrivata buongiorno stava facendo un soffogone a qualcuno secondo me mi sa bella curva bravo mi sono appoggiato mi sono solo appoggiato era precisa no anche questa ma è molto precisa era precisissimo guarda se mi arriva il mare che figata il mare d'inverno bello chi era? era uno vestito da da draghetto? uccidi le guardie volentieri li volevo schiacciare di la vita ce n'è ancora qualcuno eccolo lì brutto vigliacco puttana mamma mia che brutta fine che ha fatto hai preso? si sto fumando un joint in una lampadina è quella giusta? no è un'altra fregatura andiamo cosa succede? ah bello bello la donna ha tutto effetto è tutto storto non sto in piedi è una roba sembra un ciuco sensicherò sei telutra ti scuscio cosa succede ? se tutti iniziano ci equivalenti ci stanno sparando ragazzi sai c'era una tipa con degli occhi enormi le hai visto anche tu ti ho visto tutto hai ty sie brucio 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 se nonussia non vuol dire segui countersiku non Cristiano e non tutti essi non capisco più niente la grafica sta andando la scheda video è in papa che figata che cosa è un trip pazzesco non capisco più niente segui le tipe te ho capito è tutto pixeloso come hai fatto seguirli? e poi giro a destra ah e dillo prima guarda che mani grandi che ho ma sono le chiappe io ho le tette grosse ce l'avevo anche prima destra c'è qualcuno che mi spara yeah su camelo forte no si no perché sono due puttani che saltano da un palazzo all'altro saltano su qua come combattiamo? con chi? non mi ricordi se sono ammazzate perché sono fatte fattissime secondo me riusciamo anche a farci in questo momento dici? non so se ho la forza a farci ma forse dobbiamo uccidere questi cavoli conigli? può essere poteri limitati vuol dire che usa di brutto tutti i poteri che hai Sì, ma io continuo a bruciare come se non ci fosse un domani. Guarda quello là. Chi? Il coniglio. Lo vedi cosa fa? Dov'è il coniglio? Non lo vedi, ok. Non c'è nessun coniglio. È un bug del gioco. Oh, che cazzo. Oddio. Qua succede? Quanti? Chi è che bisogna uccidere adesso? Tutti i DJ. È un po' eccessivo, eh? Yeah. E ora li raffreddiamo. Io sto lanciando persone con la tele cinesi come se non ci fosse un domani ed è molto divertente. Guarda come scorrono bene. È che un po' dovresti anche ammazzarli, se non dispiace. Eh, ma dopo un po' muoiono perché le sto facendo rimbalzare come... Chi è che mi ha congelato? Io no. Eh no, non so chi se potrà mai essere stato un'altra volta. Ah, questo mi sa che è un boss però, eh? Chi? Eh, c'è un boss qua, forse. Ah, e questi qua sono più forti, eh? Gli ultimi che sono rimasti. Preanimazione necessaria. Guarda che con i poteri limitati non possiamo perdere. Eh, sei sicuro? Cioè, è proprio manetta e devi sparare. Eh, ma questi saltano, eh? È un inferno! No, 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 no. Ah, solo due sono rimasti. Eh, beh, che cazzo. Sai che non mi ricordo come si fa a cambiare il potere? F1! Vai, ai, 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 ai! Tu non c'entri niente. Eri tu lì in mezzo, scusi. Eri in mezzo al mio inferno di ghiaccio. Ecco, nuovamente. Ma è un po' colpa tua. E poi sono fermo. Ah, uccidi il vero DJ. Che sta qua. Si, non mi fa fare niente. Ah, uccidi. Così. Fuori dai giochi. No, 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 non farlo. Non farlo, non farlo, non farlo. Non farlo, non farlo, non farlo. Non farlo, non farlo, non farlo, non farlo, non farlo. Non mi sta chiedendo nulla. Non mi sta chiedendo nulla. Che palle. Oh, che palle. Oh, grandissime. Hai visto che numero? Ah, però, ah, però. e non farle mai incazzare. Hai visto che numero pazzesco che hanno fatto? Certo che ho visto. Il cappellone è morto come si meritava. Sicosomatico. Ti direi di fare un altro incarico. Allora facciamo così, andiamo incontrare la nostra amica sballona. Chi? Incontra il shaw di sballona sulla nave. Prima sai cosa facciamo? Sì. Munizioni. Siamo arrivati. Dove? Eh, qua sotto. No, no, non vuole saltare così tanto. Non sparare a niente nessuno che se non iniziano a sparare noi, eh? No, no, sono stranamente salito sul tetto di una macchina di passaggio. Acquista munizioni. Nooo. Merda. Cosa hai fatto adesso? Mi hai anche congelato stronzo. C'erano degli alieni, scusami ma dovevo farlo. Aia. Stronzo bastardo. Nei commenti dei video precedenti ci hanno consigliato? Sì. Sì. Che quando abbiamo la... Usare termini meno volgari? No. Quando abbiamo la... Usare termini più volgari? Quando abbiamo la cosa massimo. Dobbiamo far esplodere quella palla là. Quale palla? Quella lì rossa? No. No. Quella gialla che... Che corre. Ma non gli devo sparare. No. No. Mi ci devo avvicinare. Eccolo. Ma quale è quella palla gialla che ci inseguiva ogni tanto? Eh, ma il problema è che... I commenti erano fasulli, mi sa, perché la palla gialla non ha fatto nulla. Vedi? Ti hanno turlupinato. Sì, mi sa di sì. È rimasto tutto come era. Ma baffanculo. Una zona buona è qua. Sono Iron Man. Iron Man, vieni con me. Vieni in una zona nostra. Arrivo, arrivo. Non andare in giro e vieni in una zona nostra. Sono qua. Guarda, alza gli occhi al cielo. E vedrai. E guarda. Per grandi poteri. No, no, alza gli occhi al cielo. E sto correndo in questo momento, un attimo. Eh, guarda sopra. Un attimo. Sono sopra di te. Ti vedo la scia della tua corsa. Non sparare. Fermo. Ok, perfetto. Perché sono sparite? Perché è finita la caccia alle streghe. Ma pensa. Tu pensa un po'. Allora, stavamo dicendo. Quindi adesso... Incarichi. Qualcosa da dimostrare. Voilà. Vieni con me. Seguimi. Fallomi, fallomi. Fadi qua. Direzione porta. Aia. Mi sono iniziato con la testa in una ringhiera. No, no, no. E spero che qualcuno arrivi dagli tre e ti scopi con violenza e con tanto sangue che te lo meriti. Ci sono. Sto parlando. Corre attraverso il sistema. Sai che devo salire in alto per poi fare il mio ingresso solito alla Iron Man. E dove lo fai? Da che parte arrivi? Da qua da sopra. Perché si ribalta, guarda. Fidati. Perché si ribalta, eh. Chi si ribalta? No, no. Non mi ribalto mica. Io ho pieno controllo delle mie facoltà. Ah, si è visto, si è visto. Alla Iron Man. Ci sei? Sono bloccato sotto... Ero bloccato sotto una cisterna. Non riesco a uscire dalla cisterna. Dove sei? Ci sono. Ok. Tre. Due. Uno. Vai! Superturbo! Malefico del mondo mio! Perchè tu vuoi più veloci di me, eh? Bo, ma... Perché io beccolo... Io prendo le sfere superturbo. Anche io. Eh, ma io sono... 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 Iron Man. Con che quale marca per sapere? Eh, cinque. Ok. Guarda come il cambio della spazzatura mi fanno un baffo. Non male che ci sei te, eh. Tu doveva che sei finito, scusami. Eh, sono un po' indietro. Non so come ma sono così indietro. Sono notevolmente indietro. Sai, questa è l'esperienza del festival dell'inverno lì nel winter, la corsa sulla scuola slip, sul viaggio. Ma vissi che eri un vero campione. Puoi dirlo forte. Eri un vero campione! Oh! Attività completata! Oro! Forza, che amore! Proprio... Che bei momenti! Bei momenti! Che bei momenti! Mi sono sentito quasi bravo per un attimo, eh. Ma se rifermo ancora dal terzo fallino... Eh, qua... Quanti soldi! Cinquemila denaro, eh! Abbiamo anche gli interessi del 5%! E' livello 24! Ciumbia! Sono più avanti! Come sei più avanti? E sono livello 26, ciò nonostante! Perché? Ma perché tu hai più soldi? C'è qualcosa che mi sfugge. Non lo so. Proprio non lo so. Elimina le tuppezine, sì. E' questo? Ha un chilometro... Ah no, non è questo, di lì. Ha un chilometro e passa. Ma tu sei già da? Eh sì, certo! Arrivo! Tu sarai anche di livello 26 e... E me la posso anche meno. E pieno di soldi fino al buco del gnavo. Però... Mi sei leggermente lento. Eh... Sì. Verresti a salvarmi? Troppo tardi. Un po' di fuoco... Qua... Così. Ma come passa in mezzo ai due palazzi? Un po' di fuoco rie. Ma cosa ci fai qua? Sto combattendo contro degli esseri... Aiuto perché di calpetti? Perché sono andato fuoco. No, sono morto il tipo. No, no, no. Come siamo morti ma... Mi fai morti ma... Eh, mi hai andato fuoco mentre... Mentre mi... Ravvivavi? Diciamo così, creiamo suspense, buon senpa. Ma chiedisi. Nel prossimo video chissà che cosa succederà. Io ti prenderei a botte. Però, insomma, lo vedremo. Lo vedremo. Anche al che... Questa sound di sballona, secondo me... È una cacca... Mica male. Ai ai ai... Bastardo. Bastardo. E con questa notizia bomba... A me sembra una notizia fuoco. Oh, fuck me! Tipo questa? Sì. Oh, tipo questa. No, tipo questa è un corno. Sei morto. Sei morto? Che bel... Che bel modo per finire un video. Lo finiamo con questa parola. Stronzo! Ma direi di sì. Io ho deciso di prendere una macchina e di fare la persona elegante e fine. Mica come... Se sei in tanga... Se sei in tanga con una parrucca verde. Scusami, mica come questi uomini sandwich vestiti qua. Oh, come le pile umane. Come le pile umane. No, non c'è scontrato. No. No, come hai fatto. Porca troia, che botta.